Cari amici telespettatori, sono qui finalmente per commentare una vittoria sonora del Milan per 4 a 1 in casa del Sassuolo, con grandissima doppietta di Suso, che si ha firmato il primo gol per noi, doppio Suso, e poi il grandissimo Samuel Castiglieco, che finalmente ha trovato il primo gol in rosso-nero, ed è una cosa positiva per noi. La nostra squadra è finalmente tornata alla vittoria, dove già esprimeva un buon gioco, mancava solo la vittoria, speriamo di continuare così per le prossime partite e rilanciarci nelle zone più alte della classifica. Non saremo di certo come la Juve, ma il Milan è sempre il Milan e merita di stare più alto rispetto a dove sta. Devo fare i complimenti a tutta la squadra, i ragazzi hanno messo veramente il cuore orto nell'ostacolo, perché non era una partita facile, perché sappiamo che il Sassuolo arrivava da un buon momento, e quindi bene così ragazzi, continuiamo che questa è la strada giusta, e quindi sono contento insomma per Gattuso e tutta la squadra. Detto questo, vi do un abbraccio e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e al prossimo video. E forse Milan sempre. Ciao ciao!